Quanto è bello stare al sole, quanto ci fa stare bene, migliora l'umore, riduce lo stress, una vera e propria fonte di energia, ma anche un'arma a doppio taglio, infatti un'esposizione prolungata al sole senza protezione può aumentare il rischio non solo di tumori della pelle, ma anche il precoce invecchiamento e anche l'aumento e la comparsa delle macchie. E allora ne parliamo con il dottor Pittoni, bentrovato? Bentrovata Alice. Bentrovati a voi e oggi scopriamo come mai il sole, che comunque ci fa stare così bene, che ha questo effetto benefico sul nostro organismo, genera questi meccanismi, produce un invecchiamento precoce della pelle. Certo, il sole che effettivamente è un tocca sana dall'umore al muscolo, però purtroppo passa attraverso la pelle e la pelle non la prende bene questa cosa. Noi avevamo vari tipi di effetti che il sole può avere sulla pelle, sia sul breve che sul lungo termine, banalmente sul breve termine tutte le ustioni dal sole che possono essere di vario grado e di varie entità, fino agli effetti a lungo termine che sono quelli che ci interessano di più, sia sull'invecchiamento, sia sulle macchie, sia sulla potenziale insorgenza dei carcinomi, della pelle e del melanoma. Perché questo? Perché il raggio ultravioletto, gli UVA e gli UVB, che fondamentalmente compongono lo schermo solare, riescono a penetrare abbastanza in profondità nei livelli della pelle e raggiungono il DNA delle cellule. Cioè il raggio solare proprio arriva lì dove c'è l'espressione del DNA cellulare. E la cellula, che ha una situazione fisiologica di ricambio normale, diciamo rovinata dall'impulso del raggio solare, può a un certo punto fare un errore nel suo ricambio. Questo può essere, se viene una cellula, chiamiamola alterata, può produrre quello che poi va incontro a essere un'alterazione e un potenziale carcinoma della pelle. Ma questo stesso meccanismo di lesione, sia sulla cellula singola, quindi dell'epidermine in superficie, ma sia soprattutto a livello più profondo nel derma, crea proprio il danno alla fibra elastica. Ed è questa la vera tragedia, perché la fibra elastica a un certo punto, batti, 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 si spezza. E quando la fibra elastica si spezza è un elastico che si rompe, la pelle perde elasticità. E poi noi vediamo nell'invecchiamento del sole un invecchiamento che è anche veloce. Cioè a un certo punto, a un certo punto della vita, in sei mesi mi sono vista invecchiare. Perché? Perché le fibra elastiche hanno tutte la stessa età, hanno preso tutto lo stesso sole e si sono tra virgolette spezzate tutte assieme. Quindi è proprio questo che dobbiamo prevenire, dobbiamo proteggere la nostra pelle. Qual è il concetto allora di solare evoluto? Ecco, il solare evoluto è stato veramente un passo avanti che abbiamo raggiunto. Perché? Perché fino a, insomma, non tanti anni fa si usava il classico schermo solare, che poteva essere fisico o chimico, secondo la scelta che si faceva, che banalmente proteggeva dall'impatto dei raggi solari. Adesso si è capito che questo non basta più, perché poi è difficile in realtà applicare lo schermo solare agli orari giusti, poi sudiamo e poi il bagno in mare, tutte queste cose qui che ovviamente porta via un po' di prodotto e quindi la protezione non è più quella adeguata. E allora si è capito che si doveva passare al solare evoluto. Il solare evoluto è un concetto che parte dalla dermatologia in realtà, perché noi l'abbiamo pensato, studiato, noi dermatologi, diciamo, pensando alla prevenzione dei tumori della pelle, ma poi l'abbiamo trasferito anche in estetica contro l'invecchiamento. Cioè questo solare evoluto deve avere sì la protezione, che deve essere tutta una protezione che adesso deve sottostare ad una sperimentazione molto seria e molto precisa, ma deve anche fornire nel suo prodotto quelle sostanze, quegli antissodanti che mano a mano che il sole impatta sulla pelle, fa già l'effetto riparatore, cioè già protegge, già comincia a mettere delle toppe, diciamo, dove il sole comincia ad attaccare la pelle. E questo ha un risultato incredibilmente più efficace sia sull'invecchiamento che sulla insistenza dei tumori della pelle, ma banalmente anche sulla bronzatura, perché il fatto di prendere un sole così misurato e così, diciamo, organizzato da un certo punto di vista permette di abbronzarci e di non scottarci e di non avere qui anche poi quello spelamento precoce chiamiamolo detto in maniera semplice, che poi porta via l'effetto piacevole della bronzatura e si riparte da capo. Ci saranno poi dei punti, delle zone, dottore, che sicuramente sono più delicate, sulle quali bisogna fare ancora più attenzione e sulle quali bisogna intervenire con dei prodotti specifici. Certo, banalmente la regione palpebrale, la cui spessore della pelle è un decimo quasi della pelle del resto del viso come prima caratteristica e quindi ha una funzione barriera molto più ridotta ed è anche più soggetta per questo motivo all'invecchiamento e a tutto questo tipo di lesioni da sole, vanno trattate poi con dei prodotti più specifici perché il solare comune, per esempio, messo troppo vicino all'occhio, quindi non può penetrare dentro la regione palpebrale, non può essere applicato e quindi al di là dell'occhiale da sole vanno poi studiati dei prodotti molto specifici. E allora scopriamo insieme quali sono questi prodotti specifici, ma soprattutto quali sono i solari evoluti che ci consiglia Elena Nassimbeni. Come possiamo proteggere la nostra pelle dal sole? Allora diventa importante ovviamente proteggerla in chiave di filtri protettivi e quindi sostanzialmente proteggerla con dei filtri solari, diventa però anche importante che all'interno del prodotto vi siano delle componenti che vanno a contrastare già l'invecchiamento. Faccio un esempio, la vitamina E, per esempio, è una su tutti che comunque è un principio attivo che per quello che riguarda l'invecchiamento è di fondamentale importanza e proprio anche in chiave di riparazione dei danni che comunque il sole produce anticipando i tempi, quindi prima di esporsi al sole. Per cui diventa importante usare un prodotto che contiene degli attivi che sono alti e che quindi non si applica semplicemente un filtro protettivo e basta, ma che contenga anche qualche cosa che faccia realmente e concretamente qualcosa durante l'esposizione al sole. E i vostri prodotti per quanto riguarda la protezione quali sono? Noi nella nostra gamma prodotto in realtà ne abbiamo pochi perché anche qui cerchiamo di essere semplici, ma focalizziamo l'attenzione su quello che basta e che è necessario. Abbiamo un solo prodotto per quello che riguarda l'area del viso e un prodotto che riguarda l'area corpo e ovviamente poi il doposole che è altrettanto importante perché continua ad avere al suo interno tutti i principi attivi che servono poi per quello che riguarda la pelle, per cui le scottature, l'arrossamento e quello che invece arriva dopo il sole. Il fattore importante è quello comunque con il prodotto solare di cercare di fare in modo che la pelle non arrivi a diventare rossa. Quindi tutte le sostanze che vengono messe nel prodotto cercano di evitare che ovviamente la pelle diventi rossa e si scotti. È chiaro che il nostro consiglio a chi ama davvero il sole è quello di usare con frequenza il prodotto perché la nostra protezione è una protezione medio alta e non è una protezione altissima perché prevediamo il fatto che una persona si voglia abbronzare in un certo senso perché è anche salutare, vedere questa pelle un po' ambrata per cui non vogliamo una protezione assoluta, totale che quindi esclude completamente che il sole arrivi ad abbronzarci. Certo è che però in base anche a quanto forte è il sole, a dove lo si prende, alle Maldive anziché in Italia, chiaramente la protezione e l'applicazione del prodotto va eseguita con un certo tempo quindi anche se il filtro non è altissimo, non è un filtro di altissima protezione ma è un filtro appunto medio alto basta semplicemente avere l'accorgimento di applicarlo più volte quindi dopo un paio d'ore o se si va in acqua, se si fa un bagno è meglio riapplicarlo per essere sicuri che la protezione ci sia. Non diventando la pelle rossa, devo dire che la nostra soddisfazione è nel vedere che le clienti sono contente perché la pelle risulta ambrata da subito e l'abbronzatura permane poi a lungo nella nostra pelle. Ci sono però delle zone in cui bisogna porre molta attenzione perché sono più delicate, giusto? Sì, beh una tra tutte direi è quella proprio degli occhi e del contorno occhi tanto che infatti oltre a proteggere il contorno occhi ovviamente quando siamo all'esposizione solare abbiamo anche concepito e creato una gamma di prodotti proprio per gli occhi perché come dicevamo forse prima, l'occhio è quella zona un po' più difficile oltre che più sensibile e quindi bisogna poi anche dare del nutrimento delle sostanze, dei principi ativi che vadano a lavorare dopo quando il sole non fa più il suo effetto e quindi abbiamo una gamma di due o tre prodotti che sono indicati proprio per quella zona. E in particolare quali sono questi prodotti? Ma ne abbiamo principalmente tre direi indicate a quell'area sono l'IAP che è un prodotto proprio un siro contorno occhi con azione liftante e con un'azione peptidica quindi anche che va a lavorare sull'invecchiamento del contorno occhi abbiamo il Face Pro che è un siro in crema che può essere applicato su tutto il viso e anche sugli occhi che contiene degli attivi interessanti anche il Pumpking che sostanzialmente è un peeling a base di zucca e il riservatrolo e alcune sostanze che ovviamente vanno a contrastare efficacemente i danni del sole e l'invecchiamento. In ultimo abbiamo questo prodotto che forse accennavo prima che si chiama Details che lavora proprio nel dettaglio dell'occhio ed è proprio un balsamo che viene usato sono due prodotti, uno mattina, uno su, uno sera e vengono utilizzati proprio per impolpare la rivitalità proprio all'occhio e a tutta l'area del contorno occhi compresa quindi l'occhiaia, la borsa ed è efficace proprio per lavorare su quelle aree soprattutto quando la pelle è particolarmente danneggiata. E allora prendiamoci cura della nostra pelle ma soprattutto della nostra salute sole sì ma con le giuste precauzioni ci vediamo alla prossima puntata su Dinesi TV Dinesi TV